Buongiorno, diamo il benvenuto ai consiglieri sozzani di Forza Italia, Rostagno del Partito Democratico e Marco Grimaldi di SEL per un forum che originariamente era pensato a quattro voci. Purtroppo il consigliere Marrone, che era anche il presentatore dell'Ordine del Giorno, di cui vi parleremo oggi, è rimasto bloccato da un impegno. Quindi lo evocheremo nel nostro dialogo e proveremo anche a ripercorrere alcune sue posizioni. Questo forum riprende la discussione avvenuta l'11 novembre in aula sul tema accoglienza dei richiedenti asilo, accoglienza dei migranti. Quindi partirei immediatamente dal consigliere Sozzani, al quale chiederei quali erano gli elementi di criticità che l'Ordine del Giorno provava a sollevare sul tema accoglienza dei migranti. Ricordiamo che la Regione ha recentemente approvato una delibera di organizzazione per l'accoglienza, allora appunto in quell'Ordine del Giorno, poi rispinto, quali erano gli elementi di criticità che si realizzavano? Gli elementi di criticità erano dovuti al fatto che rispetto alla tematica epocale che stiamo vivendo, questa dei migranti, si doveva essere importante la realizzazione di un piano regionale di insediamento dei migranti e quindi non una delibera, invece semplicemente una delibera regionale nella quale si andava ad analizzare il flusso dei migranti in Italia, in particolare nella Regione Piemonte e quindi poi successivamente tutte le azioni conseguenti. Cosa significa questo? Significa che nella storia, e questo era un po' l'oggetto anche dell'intervento che io avevo fatto in aula, era che nella storia della nostra nazione a partire dal 1974, quando c'è stata un'inversione di tendenza, cioè mentre prima i migranti eravamo noi, erano gli italiani che se ne andavano all'estero, poi a partire dal 1974 c'è stata un'inversione di tendenza, cioè la nostra nazione è diventata appetibile, per altri tipi, altre popolazioni che hanno riscontrato un interesse nella migrazione a favore del nostro Paese. Vi è, a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, una impreparazione complessiva, cioè qui arrivano i migranti, vi è una situazione di accoglienza, ma c'è anche una situazione di successiva integrazione. Allora, un acconto è l'integrazione dei nati in Italia, quindi nati, cresciuti, al di là di tutta un'analisi tematica, come rispetto anche agli avvenimenti poi che abbiamo riscontrato in Francia la settimana scorsa sui nativi comunque francesi, ma al di là di quello, senza entrare in un'analisi più approfondita e di dinamiche sociali differenti rispetto all'ordine del giorno, nella mozione che aveva stata presentata, l'idea era quella appunto di una integrazione completa. Completa vuol dire che la differenza fra coloro che sono nati e vissuti, cresciuti nella nostra nazione, qui vi è un flusso migratorio di persone adulte che hanno una cultura particolare, una esperienza di vita particolare nei loro Paesi, che arrivano nella nostra nazione e in tempi relativamente brevi debbono essere messi all'interno di una società di per sé complessa, come quella che noi stiamo vivendo, che ha una serie di problematiche, cioè questo non è un Paese ricchissimo, dove arrivano i migranti ed è facile ricollocarli. Qui sono sacche di povertà di italiani, vi sono problemi di tipo economico, che la crisi ha accentuato negli anni scorsi, quindi è una problematica che andava vista, questo era il senso della mozione, in una luce completamente differente che non il semplice dibattito sui migranti che arrivavano nel nostro Paese e cosa ne facciamo, quali sono i numeri, eccetera. E riteniamo, ritenavamo con la richiesta di approvazione di quella mozione che forse una pianificazione regionale con un dibattito consigliare che andasse ad analizzare questo tipo di aspetti poteva essere una cosa sicuramente utile e andare a completare comunque il lavoro che la Giunta aveva fatto a nostro modo di vedere in modo limitato rispetto all'importanza della problematica. Grazie, chiederei quindi poi al Consiglio Rostagno che aveva sollevato anche, non alcune criticità, ma diceva insomma va bene criticare il sistema, va bene criticare alcuni problemi, però non dimentichiamoci che il tema è anche più di portata generale, quindi anche a lei chiede insomma a questo punto non tanto le criticità ma anche quali sono le opportunità contenute in quella delibera presentata. Il problema è che noi rispetto a questo tema possiamo avere un approccio demagogico che ricalca la paura, che ricalca anche una nostra tendenza a conservare quanto in questi anni la nostra società ha costruito e lo fa magari alimentando la diffidenza o non tenendo conto del fatto che già noi in Italia abbiamo delle sacche di povertà non indifferenti, ma che non sono neanche paragonabili con una povertà che decide addirittura di lasciare dei bambini piccoli in mano a degli sconosciuti purché si salvino. O noi ci interroghiamo sulla nostra capacità non solo di integrare ma interagire con quelle popolazioni che hanno dei loro valori e che devono essere messi in relazione con il nostro livello di ricchezza e di povertà o altrimenti rischiamo di avere un approccio che è sempre parziale. Questo per dire che intanto il fenomeno che stiamo vivendo è un fenomeno particolare perché la maggior parte dei migranti non vengono per stare qui, sono qui di passaggio perché il loro obiettivo è il riconoscimento e poi andare nel nord Europa. Questo succede adesso, non sappiamo cosa succederà di qui a qualche anno ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che questo fenomeno perdurerà nel tempo perché le sacche di povertà sono così elevate per cui questo fenomeno migratorio inciderà fortemente sulla nostra società e noi rispetto a questa dobbiamo prepararci senza sottovalutare tutte le criticità ma da questo anche trarre degli aspetti che possono essere di positiva ricchezza per la nostra società. Allora anche al consigliere Grimaldi quindi chiedo un'opinione sulla sua discussione sull'ordine al giorno soprattutto perché anche l'assessore Cerutti che ha difeso nettamente il suo operato l'assessore Cerutti che arriva dal suo stesso gruppo politico insomma l'idea che si debba proseguire su questa strada. Beh ovviamente noi siamo contenti che il testo sia stato rispinto ma perché vogliamo semplicemente anche replicare alle forze che parlano di invasione che sono i dati a parlare al contrario. Nessuno lo sa e in pochi lo dicono. Si è parlato appunto tanto di un fenomeno quasi diciamo straordinario per quest'anno se poi andiamo a guardare i numeri dal primo gennaio al novembre di quest'anno diciamo gli immigrati entrati in Italia invece che essere 150.000 come l'altro anno sono 140.000. Questo vuol dire che quello che diceva Elvio prima cioè che c'è un dato strutturale ormai di questa immigrazione è di fatto fondamentale in questa analisi ed è per questo che servono piani strutturali come questo e servono sempre di più delle strategie che vadano oltre in qualche modo al tema straordinario della prima accoglienza. È anche vero che ovviamente appunto visto che ci sono state varie emergenze e vengono sempre trattate come emergenze il fatto di non avere dei grandi piani europei strutturali sull'immigrazione fa sì che in qualche modo questa discussione sia sempre un po' lasciata al paese infatti finché non c'è stata di fatto la parte diciamo anche visibile della migrazione di terra di fatto tutto anche il buon lavoro fatto dai governi precedenti per esempio sull'operazione Mare Nostrum erano state poco capite insomma di quanto questo fenomeno stava diventando anch'esso strutturale e poi ovviamente io credo che non c'è alternativa al tema dell'accoglienza in parte perché non si può fermare la disperazione di queste persone né ovviamente con le armi ma neanche con il buon lavoro fatto dai tanti volontari anche perché appunto la disperazione porta spesso addirittura a abbandonare i propri figli perché quell'abbandono in realtà rischia di essere l'unica salvezza per loro in più io credo che c'è poi un dato di fondo amministrativo cioè noi difendiamo in qualche modo l'idea di regia della regione cioè che invece di opporsi diciamo a un piano nazionale abbia semplicemente fatto il suo dovere tra l'altro lo ricordo noi ospitiamo il 7% più o meno di quei 140.000 e tra l'altro è meno diciamo della percentuale del peso della nostra regione e anche altre regioni che si sono diciamo espresse contrariamente alla fine hanno anche loro fatto il loro dovere lo dico perché la vicina Lombardia che in prima istanza si era opposto diciamo al piano nazionale in realtà anche loro hanno accolto la loro quota percentuale di migrazione quindi io credo che in realtà è bene parlare di questo ed è bene anche parlare dei lati oscuri però anche di un interesse privato di questi migranti e finisco proprio su questo non è che le cose sono scollegate di quando parliamo delle stagionalità in nero e dell'uso improprio di questi migranti diciamo che ogni tanto fa anche comodo parlare di emergenza quando in realtà poi c'è un dato strutturale anche di sfruttamento di queste persone ecco rimaniamo sul consiglio di Grimaldi perché un altro tema che è emerso dalla discussione in consiglio è stato quello delle risorse cioè bene il piano o non bene il piano a seconda delle posizioni ma c'è un tema legato ai comuni i comuni rischiano poi di essere lasciati da soli in un tempo, in un momento in cui già le risorse sono scarse per i comuni ad affrontare un'emergenza poi concretamente parliamo di campi, parliamo di accoglienza parliamo di trasporti è stato fatto l'esempio del campo di settimo che ha ancora dei problemi dal punto di vista della bonifica dell'amianto allora questo rapporto tra accoglienza e disponibilità di risorse per affrontare in maniera concreta un fenomeno così provante e sfidante come l'immigrazione su questo siamo d'accordo con chi dice in qualche modo che lo Stato non può lasciare al già federalismo per abbandono anche questo tema alle regioni tra l'altro non ne avremo sulla carta le competenze perché tra l'altro non ce le dà il titolo quinto ma non abbiamo neanche le risorse per far questo e quindi è bene che il nostro Stato chieda all'Unione Europea essendo fra i paesi di prima accoglienza più risorse e credo che l'Unione Europea debba dare l'Italia diciamo come la Grecia e come altri paesi più risorse per questa prima accoglienza anche perché come diceva anche lì Benelvio spesso molti di questi migranti hanno bisogno di un riconoscimento di uno status giuridico che purtroppo gli arriva spesso dopo due anni adesso nell'ultimo anno si sono abbassati diciamo per contrastare la crisi in termini generali allora lo dico perché è un nostro late motive ma quando noi parliamo di reddito d'autonomia per tutti i disoccupati, inoccupati, sottoccupati diciamo anche che in un momento di crisi se non si dà risposta alle proprie crisi poi si rischia veramente di fare la lotta fra gli ultimi e i penultimi e fra questi ultimi è chiaro che ci sono tantissimi cittadini piemontesi e italiani che soffrono e per questo che secondo me il tema degli ammortizzatori sociali deve andare di pari passo col tema dell'integrazione e di residenti in Piemonte e parlo di residenti perché ovviamente credo che anche i migranti che in questi anni hanno pagato le tasse in questa regione, hanno lavorato in questa regione anche loro sono fra i primi attori spesso a perdere il lavoro e spesso a perdere anche lo status di italiani Consigliere Stagno Condivido quello che ha detto Marco aggiungo a sottolineare un esempio recente la disattenzione alle banlieue parigine è uno dei motivi per cui si è formato un certo estremismo come cattiva risposta alla marginalità quindi l'attenzione alla marginalità qualunque essa sia è prevenzione per il futuro ed è ricerca di una qualità di vita comune che sia di qualità per tutti e quindi noi non possiamo distinguere l'attenzione all'ultimo che arriva nel nostro paese come a quello che è figlio dei nostri nonni e che è in difficoltà ovviamente con la giusta considerazione dell'uno e dell'altro l'attenzione alla marginalità e la qualità della vita del nostro paese Cosa sono le risorse anche sul tema delle risorse e più in generale? Su quello che è stato detto Io ho entrato nel merito perché vi è una preoccupazione piuttosto sostanziale e reale direi due elementi che la contraddistinguono cioè il fatto che già le risorse faccio un esempio su due temi concreti che sono la sanità e la scuola Già vi sono delle risorse che sono difficili da reperire per la situazione sociale del Piemonte in questo momento chiaro che se arrivano e accettiamo un flusso migratorio minimo, massimo, medio da definire questo è l'elemento su quale probabilmente ci saranno anche altre discussioni non penso che termini semplicemente con quell'ordine del giorno perché poi i fatti successivi di questo ordine di due giorni dopo a Parigi pongono degli interrogativi aggiuntivi rispetto a quelli che ce l'avevamo probabilmente detti nell'ambito della discussione della mozione dicevo, mancano risorse per questi cittadini che diventano bene o male a tutti i conti cittadini cioè sono persone umane che debbono vivere in una società come la nostra e devono vivere in una società come la nostra in modo compiuto allora il fatto che si debba vivere in questo modo nel modo compiuto di dicevo prima ed era lì la critica dell'assenza dell'assessore Reschinia era ma vi è la possibilità per una regione in Piemonte nell'affrontare questa tematica guardando non solamente nell'assessore Cerrutti che aveva un compito specifico nell'analisi del flusso migratorio di quanto lei ci ha poi spiegato anche nella sua risposta quindi questo è il tema secondo me che va affrontato in futuro ed è questo il tema di pianificazione che dicevo poco anzi cioè se bisogna valutare se siamo in grado come società nel caso specifico come società piemontese come regione piemontese come realtà di secondo grado piemontesi nel garantire una vita dignitosa alle persone che in questo momento istantaneamente arrivano in Piemonte cioè non c'è una programmazione nascita, crescita, scuola eccetera qui hai un gruppo si ha un gruppo di persone hanno una certa età più o meno di diverse esperienze diverse culture diverse modo di vita diversa fino all'ieri mattina che debbono entrare in una società che e qui lo dico dovrà necessariamente adattarsi cioè c'è un compromesso di queste persone rispetto alla loro cultura rispetto al nostro modo di vivere quindi questo è un elemento di pianificazione articolato che bisogna vedere con in un modo immagino più articolato che non una semplice delibera regionale ecco l'ultimo giro partendo dal consigliere Rostagno per poi essere Grimaldi e Sozzani insomma è stato evocato molto anche quello che è successo negli ultimi giorni a Parigi insomma i fatti allora è chiaro che una discussione che è stata fatta in un momento in cui non era ancora successo quello a cui abbiamo assistito che ha scosso l'Europa in questi giorni è chiaro che pur non volendo sovrapporre le due cose c'è un tema di rapporto tra migrazione accoglienza e sicurezza nello spazio europeo allora probabilmente ci vorrebbe un forum di ore per risolvere questa domanda ma esiste un'accoglienza un'alternativa all'accoglienza come risposta e soprattutto la risposta può essere la chiusura totale delle frontiere come da più parti si sta si sta evocando e che in qualche modo anche la stessa Francia sta portando avanti ma uscendo da una fase emergenziale e non sappiamo a che livello di emergenza perché un conto è l'emergenza della migrazione e un conto è l'emergenza del terrorismo sul quale è difficile dare risposte e forse qualsiasi risposta lo dirà solo il tempo se poi è una risposta giusta io credo che sul profilo dell'accoglienza uscendo dalla fase di emergenza dobbiamo pensare ad un'accoglienza più diffusa e quindi si integra e si crea delle migliori relazioni fra chi arriva da fuori e la nostra gente quindi problema di accoglienza diffusa problema di gestione dell'accoglienza per far sì che la fase emergenziale che ha fatto sì che alcune prefetture mandassero dei gruppi di migranti senza nemmeno comunicarle ai sindaci io posso dire nome e cognome di un sindaco che ha saputo ha ricevuto una telefonata ha attraversato la piazza e c'era già il pullman quindi queste cose sono cose che non consentono una buona gestione dell'accoglienza sotto il profilo delle chiusure credo che in fase emergenziale possa anche andare bene qualche giorno ma il nostro sistema economico e di relazioni sociali a livello mondiale non permette quello e con quello non risolviamo nulla sicuramente risolviamo a lunga scadenza la situazione della povertà perché noi dobbiamo prima di tutto pensare a risolvere quella facendo operazioni strategiche rispetto ai paesi poveri interrogandoci sugli errori del passato per anni anni abbiamo venduto armi a popolazioni che si sono scannate per anni anni non abbiamo fatto una buona gestione degli interventi per le popolazioni povere e per anni anni non ci siamo interrogati di coloro che morivano di fame ci preoccupiamo adesso perché arrivano sulle nostre terre quindi questo interrogativo che non ha una risposta immediata ma che deve comunque creare da noi un clima tale da farci fare una serie di riflessioni credo che sia la risposta consigliere Crimaldi ma intanto dico una cosa che se faccio un esempio se dopo l'attentato di Duisburg un giornale tedesco avesse scritto bastardi italiani come è successo dopo la vicenda paregina tutti noi non solo ci saremmo alterati avremmo chiesto in qualche modo allo stato tedesco di non solo di stigmatizzare quella prima pagina di un giornale ma anche di dire che quello è esattamente quello che non si deve fare col terrorismo cioè intanto sovrapporre appunto come dicevi il tema terrorismo col tema migrazione è ancora peggio col tema dell'islam ha degli effetti senz'altro solo negativi perché in qualche modo rischi invece di rendere complice quello che è il tuo miglior amico in questo momento cioè quello che in qualche modo non solo crede all'integrazione ma non vuole neanche paragonare il tema diciamo di una religione con quello che è un atto stile fatto da un'organizzazione criminale e poi sono d'accordo con quello che diceva Elvio cioè che purtroppo in tutto questo si pagano gli errori che continuano a esserci perché guardate che noi siamo fra i paesi che continuano a esportare armi verso paesi faccio un esempio l'Arabia Saudita che ha dei rapporti a dir poco poco chiari diciamo con col tema dell'isis e insomma del Daesh e l'altra cosa che dico soprattutto purtroppo oggi qui non c'è il consigliere Marrone ma chi ci dice guardate che in quelle imbarcazioni chissà quanto terroristi criminali a me risulta insomma che almeno da tutte le indagini in corso delle nostre intelligenze europee chi ha commesso questi 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 atti erano persone non solo residenti nella nostra vecchia Europa ma addirittura cittadini e anche in alcuni casi addirittura non solo abitanti di quelle balie anche della in alcuni casi addirittura figli della middle class europea quindi c'è qualcosa di insomma anche di un'interpretazione che non è solo quella appunto dell'abbandono come si diceva dieci anni fa delle balie parigine forse c'è anche un'evoluzione in questo senso quindi io credo che appunto non c'è per rispondere alla tua domanda alternativa all'accoglienza e anche lì io che sono ateo e che in qualche modo riconosco nelle parole del Papa di un nuovo umanesimo dell'accoglienza io credo che in questo bisognerebbe prendere per intero il discorso dell'accoglienza e sapere che prima di noi in tanti hanno accolto come diceva il consigliere Sozzani per la crisi la povertà le guerre i nostri fratelli italiani io credo che noi dobbiamo fare quello che hanno fatto tanti popoli prima di noi cioè organizzarsi per far sì che la risposta sia tale da avere dei nuovi amici dei nuovi alleati anche che in qualche modo loro sì siano i primi promotori di palacce per il futuro consigliere Sozzani in chiusura sì io ho due dati magari su cui poi riflette uno negli ultimi 50 anni la popolazione italiana è cresciuta del 26% per effetto soprattutto di coloro che sono arrivati nella nostra nazione pensate che i migranti hanno una crescita per famiglia pari a 1,6 figli per famiglia contro il meno 0,1 di percentuale degli italiani quindi voi capite che qui bisogna prendere atto che il futuro sarà una società più complessa di quella alla quale noi siamo abituati quindi è per questo che la ritorno alla pianificazione deve essere affrontata questo argomento perché i nostri figli evidentemente vivranno in una logica differente al di là della logica di informatica di altro genere di una società completamente differente con Facebook i social network che dialogano molto più che dialogo diretto quindi una società sicuramente complessa secondo io distingo coloro che sono dei delinquenti e quindi sono dei terroristi noi non dimentichiamoci che in Italia tra le stazioni di Bologna piazza Fontana eccetera erano stragi in un momento dei cosiddetti anni di piombo forse oggi ce li siamo un po' dimenticati ma c'era una pericolosità in quel periodo tanto quanto è anche una paura voglio dire dell'andare in centro a Milano piuttosto che andare in strano a Bologna tanto quanto oggi oggi c'è una differenza che c'è l'aggiunta dell'utilizzo della parola di Dio dell'utilizzo della religione dell'utilizzo di culture diverse da quella della nostra come l'islam in realtà io penso che chi è delinquente è delinquente quindi ci deve quel gruppo di persone che ammazzano utilizzano una giustificazione è chiaro però che il connubio c'è connubio c'è perché l'analisi delle periferie come diceva il consigliere Dostagno che anche in Piemonte con la legge Astengo probabilmente bisognerebbe andare a rivedere perché furono costruiti delle grosse aree di urbanizzazione in questo senso sono dei focolai di questa gentaglia uso questo termine che utilizza magari una giustificazione per fini propri che è quella dell'ammazzare altre persone ora proprio perché stiamo discutendo su più piani in un piano sociale quindi dell'assessore Ferrari un piano di immigrazione dell'assessore Cerruti un piano economico dell'assessore Reschinia ecco qual è il motivo per cui per non allontanarci dal dibattito per la quale siamo stati chiamati oggi l'esigenza di una pianificazione un po' più complessa quindi la giustificazione alla fine forse di questo dibattito penso possa essere dedotta dal dibattito stesso che occorre una pianificazione che vada a toccare dall'urbanistica agli affetti sociali alla sanità alla scuola e perché no alla fine della fiera all'economia che sovrintende tutti questi questi settori allora ringraziamo il consigliere Diego Sozzani di Forza Italia Elvio Rostagno del Partito Democratico Marco Grimaldi di Sinistra Ecologia e Libertà ricordo che questa intervista andrà in versione integrale sulla piattaforma tv del consiglio regionale crpiemonte.tv in scritto quindi un riassunto sul prossimo numero del periodico Notizie grazie mille e buona giornata Grazie mille Grazie mille